Buongiorno a tutti da AutoCazzaniga questo breve video è fatto semplicemente per mostrarvi la qualità del telaio e dell'assetto della nuovissima Fiesta ST guardate, guardate che assetto spettacolare un'auto che non ha bisogno di modifiche dal punto di vista del telaio un'auto spettacolare unita anche al differenziale autobloccante meccanico a slittamento limitato Quaif veramente da provare questa vettura una dinamica, una ciclistica ad altissimi livelli e il motore altrettanto vi ricordo che noi queste vetture le abbiamo in pronta consegna o da ordinare nella colorazione, nel numero di porte da voi preferito potete anche consultare il video in cui andiamo a presentare l'autovettura AutoCazzaniga vi saluta e vi dà un arrivederci al prossimo video ciao a tutti da Davide Cazzaniga